Siamo arrivati al primo giorno della seconda settimana del sesto mese del 2024. Buona giornata a tutti ancora da parte di Marco Revello, una buona giornata anche a Paolo Solari che oggi cura la parte tecnica in regia e come sempre succede il giorno dopo la chiusura delle urne elettorali, per Teleradiopace sarà una giornata molto lunga quella di oggi che passeremo gran parte in diretta perché chiaramente in mattinata no perché i seggi sono chiusi, ma quando riapriranno alle 14 per lo scrutinio delle elezioni amministrative, lì ci saremo, saremo appunto nei seggi di più o meno tutte le località, avremo collegamenti in particolare con Santa Margherita Ligure, con Rapallo e con Lavagna, dove appunto si giocano le partite un pochino anche più complicate di queste elezioni 2024 per quanto riguarda le amministrative. Chiusi, quasi chiusi invece, gli scrutinio per le europee, non ci sono ancora i risultati definitivi al 100%, però i risultati ormai sono quelli che si sono visti nelle ultime ore, anche con un po' di confusione, però dovremmo essere più o meno arrivati alle quote definitive. Possiamo dare già dei risultati per quanto riguarda le elezioni amministrative in tre comuni dove si è andati a votare appunto sabato e ieri, dove c'era un solo candidato, quindi l'unico nemico che questo candidato aveva era il raggiungimento, anzi il non raggiungimento del quorum, invece è stato raggiunto il quorum del 40% sia a Borzonasca che a Mezzanego che a Lorsica, quindi sono stati rieletti i sindaci, gli uscenti Giuseppino Maschio a Borzonasca, Danilo Repetto a Mezzanego e Alessandro Graziadelli a Lorsica, quindi questi tre sono ormai sicuri di fare un ulteriore mandato, perché alcuni di loro sono oltre il terzo mandato, appunto nelle loro località, nei loro paesi, quindi questi tre paesi, Borzonasca, Mezzanego e Lorsica, sanno già chi è il sindaco che li accompagnerà fino al 2029 praticamente, sono cinque anni, quindi fino al 2029 saranno appunto governati da questi sindaci e dalle loro maggioranze, naturalmente dalla lista che li ha sostenuti, mentre invece per gli altri comuni, come detto, bisogna aspettare la riapertura dei seggi che avverrà alle ore 14. Per quanto riguarda l'affluenza alle urne delle europee, similmente crediamo che sia un po' più alto quello delle amministrative, perché questa affluenza alle europee è stata molto molto bassa, siamo al 49,69%, anche questo dato è arrivato a notte fonda, 49,69% è un dato basso ed è il peggior dato dell'affluenza alle urne di sempre in Italia per le elezioni europee e di qualsiasi altra elezione, quindi siamo sotto il 50%, quello che era inimmaginabile soltanto negli anni 90 si è concretizzato ultimamente con dati al di sopra, ma di poco del 50%, questa volta siamo scesi anche di pochissimi decimali, ma siamo scesi sotto il 50% e questo è un segnale della popolazione di una stanchezza verso la politica, di una stanchezza forse anche verso la stessa Europa. Allora andiamo a dare adesso in diretta, quindi con il beneficio di inventario perché non sono definitivi, i dati che arrivano dal Viminale sono 60.212 sezioni su 61.650, quindi mancano praticamente meno di mille sezioni e in questo momento Fratelli d'Italia si attesta sul 28,81%, Partito Democratico 24,02%, Movimento 5 Stelle 9,96%, Forza Italia con noi moderati all'interno 9,71%, Lega Salvini Premier 9,11%, Alleanza Verdi e Sinistra 6,64% e fin qui sono i partiti italiani che manderanno dei loro rappresentanti a Bruxelles e a Strasburgo, cioè diciamo che questi sono i partiti che hanno oltrepassato la soglia del 4% e che quindi manderanno dei loro rappresentanti al Parlamento europeo. Sotto questa soglia invece sia il partito di Renzi che quello di Calenda, quindi anche questo derby è finito 0-0, purtroppo per loro, 3,75 Stati Uniti d'Europa, Renzi e più Europa e azione siamo europei 3,31%. Poi ci sono le compagini minori come Pace, Terra e Dignità al 2,19%, Libertà all'1,24%, sui Tirol e lo Spartain allo 0,53%, Alternativa Popolare allo 0,39%. Poi ci sono dei partiti che si sono presentati in alcune circostinzioni, altri no, che non vengono neanche conteggiati. Allora questa è diciamo ormai la faccia definitiva di quello che è accaduto nelle urne in questo fine settimana, vediamo appunto sempre il Corriere della Sera, Fratelli d'Italia appunto verso il 28,90%, PD al 24, qua c'è scritto virgola 5 perché evidentemente erano sudati ancora un po' più diciamo parziali, Meloni dice siamo l'unico governo rafforzato dal voto in Europa, in effetti è proprio così, Schlein noi siamo l'alternativa, Fratelli d'Italia sorpassa la Lega anche se di pochi decimali, giù il Movimento 5 Stelle e poi una buona affermazione per Alleanza Versi Sinistra al 6,6%, oltre il 6% è davvero un ottimo risultato per il piccolo partito di Fratoianni e Bonelli. E poi restano fuori Calenda e Bonino Renzi, per quanto riguarda le comunali che appunto come abbiamo detto non ci sono ancora i risultati ma ci sono degli exit poll nelle località principali, il ballottaggio a Bari e a Firenze, Bergamo invece dovrebbe andare al primo turno al centro-sinistra, centro-sinistra che si riprende alcune città, mi pare anche Cagliari, quindi insomma chiaramente nelle elezioni amministrative conta molto il candidato locale e un po' come si sono comportati i vari sindaci appunto nei loro anni passati. Le preferenze e gli exploit di Vannacci, Salis e De Caro passa Cecilia Strada, Male invece va Tarquinio, ex direttore di Avvenire che si è candidato nel Partito Democratico ed era un po' l'ala pacifista del Partito Democratico. Poi purtroppo ci sono invece appunto, purtroppo per loro, perché il popolo è sovrano, quindi purtroppo per loro ci sono dei capi di governo che piangono questa mattina, uno è sicuramente Macron che ha ottenuto un risultato talmente negativo che ieri sera ha praticamente sciolto il Parlamento e quindi si andrà a votazioni proprio per il nuovo Presidente della Repubblica Francese il 30 di giugno, parliamo di tra praticamente tre settimane, cosa incredibile, in Italia non sarebbe possibile convocare delle elezioni così a breve termine, quindi ci sarebbe neanche la presentazione delle liste praticamente, comunque lasciamo stare, invece in Francia funziona così, il Presidente decide quello che vuole e quindi ha deciso di andare alle urne al 30 giugno, perché il risultato delle, come era ampiamente anticipato dai sondaggi, il risultato delle elezioni europee è andato veramente molto molto male per Macron, ma anche per Scholz in Germania, quindi i due leader europei hanno voluto e vogliono in qualche modo non peggiorare la loro situazione forse andando alle urne presto, almeno questa è la scelta di Macron, vedremo cosa farà Scholz, von der Leyen reggerà perché comunque la maggioranza Ursula ci potrebbe essere anche in questa partita, però sappiamo che alcuni, anche alcuni partiti che hanno votato la von der Leyen negli ultimi mesi sono, diciamo si sono un po' così, raffreddati nel rapporto con la commissaria europea. Poi le bandiere blu del PPE prevalgono ma avanza anche la destra e anche la destra estrema e questa è un po' la composizione della nuova Europa. E adesso andiamo sulla prima pagina del secolo XIX, l'Europa si tinge di nero addirittura, la maggioranza filo Unione Europea regge ma gli stati vanno a destra, la Le Pen doppia Macron, AFD che sarebbe il partito di destra tedesco secondo partito, Meloni trascina Fratelli d'Italia, bene il partito democratico che forse è andato anche oltre le più rose aspettative. Alla Lega Vannacci non basta, superata da Forza Italia, il Movimento 5 Stelle delude, exploit appunto alleanza verde-sinistra, invidico le liste di Renzi e Calenda perché? Perché appunto al secolo si riferisce a questi commenti stando a queste proiezioni che erano quelle più o meno di mezzanotte e mezza, proiezioni che sono state in alcuni casi confermate, in altri casi un po' ridimensionati, per esempio Lega in questa proiezione aveva l'8,3%, quindi un po' poco rispetto al 9,11% che ha avuto e Forza Italia un pochino più in là. Per quanto riguarda gli Stati Uniti d'Europa che aveva il 4%, in realtà è sceso al 3,8%, quindi non sarà rappresentato in Europa, quindi è chiaro che i giornali oggi escono un pochino vecchi. Seggi semivuoti e il baratro del meridione, appunto i seggi rimangono praticamente deserti al sud Italia, forse anche per questo la debacle del Movimento 5 Stelle che sappiamo essere un partito molto forte nel meridione. Eletti i primi sindaci, Bucci e Totti sono andati alle urne, Bucci reduce da un'operazione, Totti agli arresti domiciliari, effetto bipolarismo sulle alleanze Liguri, Piemonte, Bis di Cirio, centrodestra oltre il 50%, secondo gli exit poll, quindi bisogna aspettare oggi perché abbiamo visto che gli exit poll ci beccano abbastanza, però non completamente, quindi basta poi, come abbiamo visto, delle percentuali in meno, anche dei decimali in meno, a cambiare un po' la sorte. Poi parlando di politica internazionale, Gantz si dimette dal cabinetto di guerra di Netanyahu, ma Netanyahu invita gli altri a restare uniti, ostaggi liberati, morti nel blitz quasi 300 civili, secondo Hamas sarebbero 274 le vittime di questo blitz che ha liberato alcuni ostaggi nella striscia di Gaza, tra questi ci sarebbero 64 bambine e 57 donne, cioè tra le vittime, tra le vittime ed è stata smentita la notizia della morte di tre ostaggi. Ancora nella prima pagina del secolo, export Liguria promossa ma potrebbe migliorare, intervista all'imprenditrice Vittoria Gozzi, chiave il luogo ideale per crescere, con Crippa l'Italia vola e supera il record del 90%, Atletica arrivano altre medaglie all'Italia. Purtroppo abbiamo visto che in campo tennistico non è andata bene, sta andando bene invece in campo, diciamo così, atletico. Allora, detto questo, ci dedichiamo un secondo anche al meteo, facciamo proprio una piccola parentesi meteo per dire che è passata una perturbazione sull'Italia, soprattutto sull'Italia del nord, sappiamo che ieri c'erano delle allerte gialle in gran parte delle regioni del nord ma non in Liguria, in Liguria ci sono stati soltanto dei piovigini nella giornata di ieri, mentre invece nella notte appena trascorsa ci sono stati anche degli scrosci piuttosto forti che sono caduti intorno alle 3 di questa mattina, poi anche alle 5, ci sono stati varie fasi di tempo perturbato, però diciamo che la perturbazione ormai sta, diciamo così, scivolando verso Est, mentre invece qua sulla Liguria abbiamo ancora a che fare con condizioni di tempo spiccatamente variabile, a tratti anche instabile. Molto probabilmente la mattinata potrà ancora avere qualche, vedere ancora qualche precipitazione, in particolare ci dicono il più possibile a Est, quindi parliamo dell'estremo Levante, dello spezzino, dove ci potrebbero essere anche dei temporali, soprattutto nelle zone immediatamente dietro la costa, mentre invece sul resto della regione la mattinata passerà con tante nuvole, qualche piovigine, ma nulla di particolarmente importante. Nel pomeriggio invece ci sarà una linea piuttosto temporalesca, piuttosto importante, piuttosto accesa sugli entroterra, quindi avremo dei temporali, soprattutto sulle Alpi Liguri, ma anche sul resto dell'Appennino della nostra regione, queste piogge, che potranno essere anche a carattere appunto di temporale, potrebbero sforare localmente lungo qualche tratto di costa, quindi è possibile che nel pomeriggio ci siano precipitazioni, però diciamo un po' in alternanza con annuvolamenti e schiarite e poi ammiacchia di leopardo, come si dice, di breve durata comunque. Quindi sulla costa pioverà, ma non così tanto come invece è piovuto questa notte, per esempio, la scorsa notte. Le temperature sono molto elevate ancora, perché c'è un flusso meridionale, diciamo così, al suolo qua da noi sulla costa, che addirittura ha già portato alcune temperature al di sopra dei 21 gradi. Anche a Moneglia, per esempio, abbiamo 21 gradi punto 3 in questo momento, 20 gradi e 9 sul lungomare di Rapallo e a Santa Margherita Ligure, 21 gradi e 1 a Genova in Corso Italia, 21 gradi e 4 a Genova Nervi, quindi vediamo che le temperature sono molto elevate, anche se poi, vi dico la verità, le massime oggi arriveranno a stento a 24-25 gradi, quindi non ci sarà praticamente escursione termica nel pomeriggio, poco soleggiamento e quindi evidentemente le temperature rimarranno piuttosto così basse. Non abbiamo purtroppo in questo momento la temperatura del Monte Bue, peccato che prima invece funzionava, adesso invece non c'è il dato aggiornato. La minima della notte all'1.08 è stata di 7 gradi e 9, questo lo sappiamo, poi in questo momento Rocca Davido con 12 gradi e 9, 11 gradi e 1 di minima, scendendo Rezzoglio Basso 12 gradi e 7 la minima, 12 gradi e 1 a Cabane di Rezzoglio, 15 gradi e 2 a Casale di Borzonasca e 15 gradi e 2 anche a Belpiano, stiamo parlando di minime della notte, quasi 16 gradi a Pontoli, 15.9, 16.3 a Favale di Malvaro, 16.1 a Pezzonasca e Moconesi, 16.1 a Pian dei Peretti di Tribogna, Villa Uneto con 16 gradi e 6, poi veniamo sulla costa con 19 gradi e mezzo a Santa Margherita, 19 gradi e 3 a Rapallo, 18 gradi e 9 sul porto di Chiavari, 18 gradi e 3 a Lavagna, località Berissi, 18 gradi e 3 anche a San Bernardo, località di Sestri Levante e a Monegli a 21 gradi. Poi minime a Ruta a 22 gradi e 2, a Sori 19 gradi, a Nervi 19,7, a Marassi a Genova, Centro Genova 17,4 gradi, a Parà 18,5 gradi, poi passando a Savona 19,3 gradi, 18,3 gradi ad Imperia, 19,9 gradi a 20 miglia nell'estremo Levante della Spezia, addirittura la minima alla Spezia non è scesa sotto i 20 gradi, punto 3. Allora, a questo punto andiamo a vedere quello che vi dicevo in apertura, cioè i primi, diciamo così, eletti sindaci di questa tornata elettorale nel Levante e Ligure sono a Borzonasca, Mezzanego e Lorzica, perché qui c'era un solo candidato e quindi si doveva raggiungere il quorum del 40% più 1 degli aventi diritto, togliendo da questo computo anche i residenti all'estero, quindi insomma era un quorum molto più limitato rispetto al passato, che invece era al 50,01. Allora, quorum, oltre all'ostacolo, a Borzonasca, Mezzanego e Lorzica i candidati correvano da soli, superata la soglia del 40% più 1 degli elettori necessari alla nomina, quindi è record in Valle Sturla, il limite era stato già superato con la rilevazione delle 12, mentre invece dalle altre parti si è dovuto aspettare fino agli ultimi dati. Allora, in questo caso, con il quorum raggiunto, vincono Borzonasca, dove c'è appunto l'uscente e quindi rientrante Giuseppino Maschio, Danilo Repetto a Mezzanego e all'Orzica Alessandro Graziadelli. Quindi questi sono i tre sindaci uscenti e rientranti perché sono stati riconfermati, la giornata attesa dai futuri sindaci tra lavoro, incontro e famiglia e appunto, come dicevamo, in Valle Sturla, quindi sia a Mezzanego che a Borzonasca, il record, cioè il record, il quorum del 40% era già stato raggiunto praticamente a mezzogiorno di domenica e quindi sia, ripeto, che a Maschio erano tranquilli di essere stati rieletti. Mentre invece bisogna attendere negli altri comuni dove c'erano più candidati, cioè tutti gli altri chiaramente, per esempio appunto qua vediamo le urne aperte a Rapallo-Recco, qua siamo a Recco, poi a Rapallo, poi anche a Lavagna con i due candidati a sindaco. L'affluenza premia la corsa dei sindaci, ma per le europee manca lo sprint. Sufficiente la partenza nei seggi, nei 22 comuni del Levante dove si sceglieva a chi affidare le chiavi dell'amministrazione. Nelle città superata quota al 44%, Male-Portofino che non andava a eleggere il sindaco, sotto il 20% alle 19, Lumarzo fermo al 22%, Avvenio al 55,5% degli aventi diritti. Dalle altre parti ci sono percentuali molto molto più alte. Poi chiaramente le percentuali le vedremo nei prossimi telegiornali, ora non riusciamo a darveli tutti, anche perché alcune non sono comunque ancora diciamo così aggiornate agli ultimi dati delle 23. Da restauratrice condosso doppio passaporto abitante a Lavagna, il mio voto per le europee con il pensiero al Brexit. Va bene, allora, mentre invece abbiamo una notizia sulla stessa pagina che però non c'entra assolutamente niente, se non che c'è una nomina, ecco, non c'è un'elezione ma una nomina, ed è la nomina del sacerdote novello della diocesi di Chiavari, cioè colui che è stato ordinato nella giornata di Pentecoste, cioè Don Francesco Basso, che è stato destinato come vicario parrocchiale a Chiavari e Leivi, in particolare nella zona pastorale di San Pier di Canne. Andiamo a vedere, ordinato lo scorso 19 maggio, Rapallese, proveniente dalla parrocchia di San Gervasio e Protasio, Don Francesco Basso, ha ricevuto la destinazione dal vescovo Monsignor Giampio De Vasini, è stato infatti nominato vicario parrocchiale delle parrocchie chiavarese di San Pietro di San Pier di Canne, San Martino di Magena, Nostra Signora della Pace e San Bernardo in Campodonico. Gli viene affidata anche in particolare la pastorale giovanile di altre parrocchie, quelle di San Ruffino e San Bartolomeo di Leivi e di San Tommaso del Curlo. Tra l'altro, ieri Don Francesco ha celebrato la sua prima messa a San Pier di Canne, che era la chiesa dove ha passato gli ultimi anni del suo diaconato come coadiuvatore parrocchiale, appunto vediamo nella foto sul nostro sito teleradiopace.com un momento di questa celebrazione che è avvenuta ieri alle ore 11 appunto nella chiesa di San Pier di Canne, lo vediamo insieme al parroco Don Antonino Maffei e insieme al vicario generale della diocesi di Chiavari, appunto Don Mazzino. Adesso abbiamo avuto un blackout di uno dei due schermi, lo dico alla nostra regia, abbiamo in questo momento soltanto uno schermo attivo, vediamo se riusciamo a ripristinare l'altro ma non è detto. Va bene, allora ce ne faremo una ragione, questa mattina un po' di problemi tecnici ci sono stati, vediamo se riusciamo a recuperare. Allora andiamo a vedere, eccolo qua, vediamo l'immagine che ritorna. Andiamo a vedere se ci sono, anzi ci sono purtroppo altre notizie dal nostro territorio, quindi al di fuori delle elezioni, ricordiamo l'appuntamento alle ore 14 con la diretta di Teleradiopace perché alle 14 riaprono i seggi che sono stati chiusi dopo lo spoglio delle europee, sono andati a casa i presidenti, i segretari, gli scrutatori, i militari e tutto il personale dei seggi e ritorneranno oggi pomeriggio alle 14, si riaprerà tutto e si inizierà la conta delle schede per quanto riguarda le comunali. In alcuni comuni tra l'altro si pensa di fare anche molto rapidi perché ci sono solo due liste quindi alla fine si potrà un po' capire quasi da subito l'andamento, comunque l'orientamento dell'elettorato in altri comuni come Rapallo, chiaramente ci sono più candidati sindaci con più liste quindi sarà un po' più complicato, Rapallo si arriverà sicuramente all'ora di cena per avere il risultato e Rapallo è l'unico comune di quelli impegnati durante le amministrative che potrà andare al ballottaggio, quindi si potrà avere appunto il ballottaggio a Rapallo, nelle altre località no perché appunto siamo al di sotto dei 15.000 abitanti poi ci sono solo due candidati in alcune zone e quindi diciamo che l'unico a non avere poi assincerata la possibilità di avere già il sindaco era Rapallo, negli altri comuni invece la situazione sarà diversa. Chiudiamo questa parentesi lunghissima delle elezioni e purtroppo andiamo ad un dramma capitato a Lavagna, un incidente che purtroppo può costare la vita uno degli occupanti dell'auto, il più piccolo tra l'altro che è ricoverato in gravi condizioni, allora dramma di Lavagna, ho visto l'auto in acqua, la mamma e il suo bambino erano intrappolati, il sommazzatore del porto Nuti è stato tra i primi a intervenire tuffandosi in mare, la donna 45 anni, il figlio 6 restano in condizioni critiche, soprattutto purtroppo il figlio di 6 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Gaslini di Genova, ricoverati però in maniera con conseguenze meno gravi anche il papà e i fratelli che sono sicuramente fuori pericolo di vita. Esattamente cosa sia successo si è capito molto poco, c'è stata una manovra, una manovra diciamo sbagliata di questa auto che è finita in mare, l'incidente lo ricordiamo appunto è avvenuto sabato e lui e i figli più grandi riescono ad uscire dall'abitacolo, cioè lui l'autista e a tornare a galla mettendosi in salvo, la moglie e il bimbo più piccolo restano sott'acqua per 9 minuti e quindi ora versano entrambi in gravi condizioni. Veramente non si capisce bene come abbia sbagliato questa manovra, però purtroppo è accaduto e andiamo appunto, è stata un'esperienza davvero pesante, è scattato l'allarme, sono intervenuto immediatamente, racconta Riccardo Nuti, sommozzatore del porto di Lavagna, madre e figlio sono rimasti sott'acqua per quasi 10 minuti, non erano riusciti ad uscire dall'abitacolo. Su questo dramma ci saranno delle inchieste, si apriranno appunto delle inchieste per capire bene che cosa sia accaduto veramente e poi andiamo a questa notizia, la corriera di AMT rubata a Carasco, cioè è successo anche questo? Cioè appunto una corriera rubata, cioè proprio prelevata con la forza da alcuni malviventi è stata abbandonata dai ladri ad Arezzo e quindi è stato ritrovato ad Arezzo il bus Fiat Ducato AMT del valore di 60.000 euro rubato l'altro giorno nel deposito di Carasco. Il colpo era stato messo a segno nella notte tra venerdì e sabato, poco prima delle due di notte, a quel punto è iniziata una caccia al bus rubato e agli autori del furto durata tutto il giorno, probabilmente i ladri prima di raggiungere la città toscana, cioè ovvero Arezzo che dista da qua 268 chilometri, devono aver effettuato qualche deviazione o qualche fermata, forse nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Quei che non sapevano è che il bus utilizzato per i servizi a chiamata DMT acquistato da poche settimane è dotato di un GPS che se non attivato tiene continuamente sotto controllo il veicolo e la sua posizione. Quindi capito un po' questo, hanno lasciato quello che avevano rubato e lo hanno appunto fatto ritrovare però con quasi 300 chilometri di distanza, quindi capite voi che attualmente insomma è anche difficile poi risalire all'identità di questi autori del furto di autobus e dovevamo vedere anche questo evidentemente. Allora da oggi tra l'altro parlando di autobus, di AMT, da oggi scatta l'orario estivo degli autobus con più corse e servizi soprattutto nelle zone più turistiche, quindi parliamo del Tigulio occidentale ma anche di Sestri Levante eccetera e comunque più corse in generale e meno magari condensate negli orari delle scuole perché da oggi le scuole sono chiuse, anzi dalla fine della scorsa settimana comunque sono chiuse ufficialmente le scuole e quindi è chiaro che gli orari si rimodulano. Quindi andiamo a vedere il servizio che ci spiega quali sono le novità di questo orario estivo dell'AMT. Da lunedì 10 giugno sarà attivo l'orario estivo del servizio extraurbano ed urbano genovese degli autobus che resterà in vigore fino a domenica 15 settembre. Per i turisti AMT propone Matt Daily, un biglietto che permetterà di viaggiare su tutte le linee autobus di Genova e dell'area della città metropolitana al costo di 10 euro per 24 ore. Nel titolo di viaggio saranno comprese anche la linea bus di Portofino, il nave bus, il volabus e la ferrovia Genova Casella. Il costo è di 30 euro per gruppi di 4 persone. Le altre novità. Da lunedì gli autobus da Santa Margherita Liguria a Portofino avranno la frequenza di 15 minuti dalle 8.30 alle 19.30. A partire dal 1 luglio l'offerta sarà intensificata anche nell'orario serale. A Rapallo gli autobus potranno tornare a percorrere via Militegnoto e Corso a Sereto per raggiungere la stazione ferroviaria. Ci saranno dunque variazioni sulle linee dedicate. Nel Tiguglio orientale, da lunedì fino al 25 luglio la galleria di Nostra Signora della Guardia Velva sarà chiusa dalle 6 alle 18, dal lunedì al venerdì. Pertanto durante le ore di chiusura le corse della linea 750 Sestri-Levante-Varese-Ligure transiteranno dal paese di Velva. Sabato e domenica invece le corse transiteranno dalla galleria di Nostra Signora della Guardia. A Mezzanego il servizio Chiama il Bus passerà dagli attuali due giorni di servizio, mercoledì e venerdì, a sei giorni. A partire da lunedì infatti si potrà prenotare il servizio dal lunedì al sabato. Per quanto riguarda la programmazione del servizio urbano della città di Genova, l'orario estivo entrerà in vigore lunedì 17 giugno e come di consueto sarà modulato in due fasi. La fase 1 sarà in vigore dal 17 giugno al 28 luglio e dal 2 al 15 di settembre. La fase 2 sarà invece in vigore dal 29 luglio al 1 di settembre. Tutti gli orari sul sito amt.genova.it o sull'applicazione dedicata. E andiamo sulla pagina della Liguria del secolo XIX. Aree inondabili, ecco le nuove regole strette sui requisiti per costruire. Dopo l'esame del Politecnico torna il vaglio dell'autorità di Bacino, la norma che sblocca l'edificabilità in una porzione delle zone rosse, quelle appunto maggiormente esondabili. Il regolarmento era stato modificato dopo le criticità emerse in commissione. In attesa del testo definitivo resta vigente la vecchia disciplina in materia. Sospeso l'abbattimento di Naso e Rosino e due cinghiali salvati dal decreto del Tar. E appunto qua vediamo questi due cinghiali insieme a Giordana che li sta curando. I casi dei due angolati che da oltre due anni vivono a Bargagli nel rifugio Miletta. E oggi c'è anche naturalmente la pagina del Levante Sport, un profilo di Leonardo Baciocco, sogno un team Ligure che mi faccia giocare a casa. Il pallavolista cresciuto nell'Admon Lavagna riduce da una stagione in A3, vorrei tornare nel Tiguglio ma servirebbe una squadra con ambizioni nazionali. E allora adesso andiamo a parlare dell'Andersen che si è chiuso, il festival Andersen si è chiuso ieri, appunto Andersen è il festival tra luci e ombre, ieri ultimo giorno di spettacolo, il comune di Sestrivanti annuncia formula da ripensare, Andreoli baia vuota, le opposizioni contro gli show a pagamento e Solina si dice sono solo critiche strumentali. Qua vediamo la foto del primo giorno della Kermessi, sicuramente il giorno più frequentato perché c'erano le scolaresche, ancora le scuole erano aperte e poi vari spettacoli che si sono alternati tra la baia del silenzio e in quest'anno anche lo stesso convento dell'Annunziata. Alcuni spettacoli erano a pagamento. Bisogna anche dire che quest'anno l'Andersen non è stato baciato dalla fortuna perché appunto il weekend non è stato bello, ci sono stati momenti in cui se non è piovuto comunque ha minacciato pioggia eccetera, quindi molte persone magari hanno desistito dall'andare nella baia. Lombardi del consorzio va destagionalizzato, la mare del CIV pochi eventi per i bambini. Certamente rispetto al passato, rispetto agli anni in cui l'Andersen era davvero un grande successo, quest'anno e anche negli ultimi anni ci sono molti meno spettacoli degli artisti di strada che poi erano quelli che piacevano più ai bambini, alle loro famiglie, forse più della presenza di grandi personaggi come abbiamo visto, Claudia Gerini è appunto madrina di questa manifestazione. Adesso andiamo a parlare di meteo con la situazione prevista per la giornata di oggi, allora ve lo diciamo subito, neanche questa sarà la settimana della svolta estiva, cioè nel senso che da qui almeno a mercoledì non si intravede una vera svolta, quindi continuerà questo tempo un po' bislacco, questo tempo molto variabile, con la possibilità sempre nel pomeriggio di precipitazioni sulle zone interne che poi a caso possono anche sforare sulla costa, quindi è chiaro che in una situazione del genere non abbiamo delle giornate belle, di sole, calde, intense, eccetera. Abbiamo delle giornate che tutto sommato non sono belle, non sono tantissimo piacevoli, ma purtroppo oggi aumenta anche il moto ondoso, quindi con mare che non invita alla balneazione. Questo almeno da oggi a mercoledì la situazione rimarrà più o meno questa, cioè di tempo instabile, anche se non pioverà tantissimo, ecco, non diciamo che non pioverà molto, però ci saranno così in alternanza delle schiarite, degli annuvolamenti e dei piovaschi, che saranno più probabili nelle zone interne nel pomeriggio, Alpi Liguri in particolare, ma anche il resto dell'Appennino, e non si possono escludere degli sforamenti di queste precipitazioni anche un po' sulla costa. In particolare qua la cartina ci indica il ponente genovese, ma anche il promontorio di Portofino e anche il Tiguglio orientale, quindi insomma è un po' una zona complessa. Per quanto riguarda i venti, deboli e moderati dei quadranti meridionali, intensificazione da sud ovest nel Levante Ligure, deboli in rotazione ciclonica sull'Imperiese, con mare mosso ovunque, molto mosso e agitato entrosera nel Levante, temperature che oggi appunto non avranno quasi una escursione termica, perché le massime saranno intorno ai 24-25 gradi, vedendo che adesso abbiamo già raggiunto quasi 22 gradi, capite bene che non ci sarà una grande differenza tra la mattina e il pomeriggio. Poi domani, 11 giugno, la Limet prevede un'altra giornata instabile, con precipitazioni sulla fascia costiera in mattinata, poi passeranno nell'entroterra nel pomeriggio, maggior coinvolgimento pomeridiano per le Alpi Liguri, coperto molto nuvoloso, con qualche schiarita in più sullo spezzino in Periese e Costiero, con venti deboli dei quadranti settentrionali sul ponente, moderati di Scirocco su centro Levante, mare mosso ovunque, molto mosso, localmente agitato su Levante, temperature stazionarie sia per i valori massimi che per quelli minimi. Poi cosa succede? Con questo grado di umidità molto elevato, succede il fenomeno AFA, quindi anche se le temperature non sono molto elevate, siamo intorno ai 25 gradi di massima, possono arrivare anche a 26-27, però con questo grado di umidità ci sembrerà ancora, più caldo, quindi comunque diciamo che è un tempo non bellissimo, anche mercoledì avremo sempre un po' tempo così instabile. Speriamo in una svolta nel weekend, non si intravede, ma comunque la speranza è sempre l'ultima a morire. E noi ce ne andiamo, ma vi lasciamo con le trasmissioni delle reti di Telepace e Radiopace e naturalmente vi ricordiamo l'appuntamento alle 12.45 con il Tg della fine mattinata, con il telegiornale, con le ultime notizie, con tutti i dati anche delle affluenze alle urne, eccetera, e poi alle 14 parte la lunga diretta pomeridiana con i risultati elettorali, lunga perché abbiamo anche Rapallo dove sicuramente i seggi verranno chiusi praticamente all'ora di cena. Per quanto ci riguarda l'appuntamento è anche domani mattina, naturalmente con il Tg Rassegna Stampa alle ore 7.30 e alle 8.10. Da parte di Marco Revello quindi l'augurio di un'ottima giornata a tutti e un ringraziamento in particolare a Paolo Solari per la parte tecnica. Grazie a tutti